Amici di Weekend Dance, Diego Sanchez inviato speciale di Weekend Dance per il veione di Capodanno al mulino rosso di Bellona di Triflisco Grandiosa serata, tra poco vedrete che cosa è successo, quindi siamo pronti e allora come dice lo ziodino vai con le immagini Grazie a tutti Capodanno 2012 Weekend Dance qui al mulino rosso di Bellona di Triflisco, sono con Michele il patron, si può dire veramente il santo patron del mulino rosso Michele auguri innanzitutto buon anno Buon anno pure a voi, faccio un buon anno anche a Dino che in questo momento non c'è ma ci raggiunge più tardi Se ne sei accorto che non sono io Dino Comunque Dino e Diego per noi è la stessa cosa, sono amici tutti e due E niente, è un bellissimo Capodanno, veramente la gente vede che si sta divertendo veramente, mi fanno i complimenti sia per la struttura che per quando hanno mangiato, hanno mangiato benissimo, si stanno divertendo, c'è musica, Diego che ci ha fatto divertire molto, poi adesso ci sarà anche la discoteca e tutto quanto, comunque veramente un Capodanno bellissimo Naturalmente l'augurio è quello che sia un 2012 ricco ma non economicamente, ricco di amore e di gioia, o sbaglio? Sì sicuramente, comunque il segreto è che quando le cose riescono perché le facciamo con passione, non guardiamo le sfumature, guardiamo solo e miriamo solo a far divertire e far stare bene, ma meglio dire gli amici perché a parte che sono tutti amici, chi non è amico ci diventa, veramente abbiamo avuto un Capodanno di successo, veramente dai We can dance, la tv degli eventi Grazie a tutti Il motore del Mulino Rosso perché è colei che gestisce tutto quanto qui al Mulino Rosso Un fantastico veione di Capodanno con tanta gente soddisfatta Tu sei rimasta soddisfatta? Soddisfattissima, infatti colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri ospiti Sono stati meravigliosi perché grazie all'Orio siamo riusciti a fare tutto questo, grazie Tu naturalmente sei il marito quindi cosa ne pensi? Io mi scuso con le persone che non abbiamo potuto ospitare perché abbiamo il pianone Stasera ci scusiamo ancora con i nostri amici e con le altre persone che non abbiamo potuto ospitare Grande pieno qui al Mulino Rosso e purtroppo come appunto diceva Giuseppe abbiamo dovuto mandare le persone indietro Questo è quando si organizzano le cose fatte in un certo modo E qui al Mulino Rosso è tutto organizzato nei minimi particolari, è vero? Certo, sì sì Calimba di luna 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 Signora, come è stato il veglione qui al Milino Rosso? Benissimo, siamo stati bene, abbiamo mangiato benissimo, il divertimento è giusto, non troppa confusione e neanche troppa calma, quindi la situazione è ideale. Fantastico, divertentissimo, stiamo divertendo, stiamo mangiando bene, stiamo divertendo, bellissimo. Cos'è che vi è piaciuto di più? La serata in generale, anche Diego Sanchez, è piaciuto Diego Sanchez, diciamo che io l'ho un po' costretta a questa risposta, però no, non ci è piaciuto. Stiamo benissimo, ci stiamo divertendo tantissimo. E noi siamo felici di questa cosa, facciamo un augurio per tutti gli amici di Weekend Dance. Evviva il Milino Rosso, evviva il Milino Rosso. Un bacio a tutti e amici di Weekend Dance. E' stupendo. Ci stiamo divertendo, no? Tanto, con tutti quanti, con il proprietario, tutti quanti, bellissimo. Bellissimo, divertentissimo e si mangia benissimo qua. Una bella serata, curata nei minimi particolari. A parte diciamo la scena, a parte diciamo il posto, a parte tutto quanto... L'intrattenimento, la compagnia, la musica, il tutto. Buon 2012, frizzante 2012 a tutta l'Italia. Una vita serena, un po' di salute e tanta felicità. Sentite, la voce della nonna non c'è sta niente a fare, la voce della nonna. Mandiamo un bacio a tutti quanti. Un bacione e tanti auguri a tutti. Weekend Dance, la tv degli eventi. Un bacione e tanti auguri a tutti. A me me gusta bailare il ritmo vueltà. A ti te gusta bailare il ritmo vueltà. A todo le gusta bailare il ritmo vueltà. Baila, baila il ritmo vueltà. Con la mano a mano, con la otra mano. Baila, baila il ritmo vueltà. Baila, baila il ritmo vueltà. 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 Baila, baila il ritmo vueltà. Baila, baila il ritmo vueltà. Avevo un appuntamento che non potevo perdere nel fare gli auguri personalmente a un mio amico Michele Carillo. Buon anno. Buon anno in gattitino. Noi te l'abbiamo già fatti comunque. Anche se l'avete fatti con Diego. Anche se non c'eri di con noi c'eri lo stesso. però ci tenevo fisicamente di stare qua al mulino rosso per una grande di fine anno e poi perché collaboriamo insieme da tempo e faremo anche lo stesso per quest'anno sì noi ci tenevamo molto che tu venissi ma proprio veramente per scambiarci gli auguri da vicino e poi tu ci porti pure nella nostra struttura anche con i nostri marchi che stiamo adesso lavorando vicino a nostri marchi con a che mi so come nel mulino rosso ma un desiderio per il 2012 per michele che cosa cambieresti se tu avessi una bacchetta magica qualcosa che non ti piace come va niente guarda che se avessi una bacchetta magica magari potrei chiedere meno di quello che la vita mi ha dato io sono contento di quello che ho avuto quello che sto facendo credo che oggi io non ho bisogno della bacchetta magica va bene così con le mie mani riesco a fare più della bacchetta magica un saluto anche a tua moglie e alla tua splendida famiglia eh sì un bacio a tutti quanti dai anche a tutti i clienti via che mi so come è il mulino rosso ma dai tuoi 50 anni sei più elegante stasera che alla festa di compleanno come mai eh iniziamo un anno nuovo i miei 50 anni fanno parte del 2011 nel 2011 sappiamo tutti che ci siamo trovati in un in un periodo di crisi che sicuramente il 2012 ci porterà meglio e niente ho voluto vestire un look diciamo dai stasera niente stasera voglio voglio finire un 2011 iniziare un 2012 sicuramente con tanta prosperità chiamiamo anche il tuo entertainment che questa sera ha fatto divertire tutti gli amici del di qua vedi qua vedi qua vedi qua guido un bacio auguri auguri a te ora lo sto vedendo noi siamo arrivati innanzitutto ti ringrazio proprio ufficialmente pubblicamente perché ti sei prestato come il tuo solito lui è anche il prestatore ufficiale di ragazzo weekend dance dovevo venire già sanno che quando zio Dino ringrazia perché io ho lavorato non pago quindi perciò lui ringrazia però tutta la simpatia di un professionista come te quindi ci tenevo personalmente a farvi gli auguri personalmente a Michele e a te grazie mille io faccio ho già fatto tanti auguri agli ascoltatori i telespettatori la radio radio marta ci accomuna anche quello allora tutti gli amici di weekend dance li ho salutati abbondantemente non smetterò mai di salutarli anche perché ormai mi accomunano a weekend dance mi fermano per le strade ma stai facendo pure di weekend dance appunto per quello ti voglio bene ti vogliamo bene ti ringrazio voglio bene anche a voi ma guarda auguri auguri che coppia straordinario troppo buono troppo buono questo prima Michele un desiderio per l'anno nuovo tu cosa desideri per il 2012 devo dire la verità per quello che io non desidero nient'altro solo di stare bene insieme a mio marito e i miei figli allora ci vuole un bacio per chiudere auguri weekend dance Diego Sanchez e Dino Piacenti buon anno ciao panchez su radio marta quando ti devono ascoltare tutte le mattine no sabato e domenica dalle alle 10 auguri viché qua fai da quella seretiene vai a chi a seretiene a paolo